buongiorno a tutti io sono marco colombo naturalista e fotografo e oggi vi accompagnerò grazie al supporto e alla fiducia del parco dell'olio in un intervento diciamo che riguarda la fotografia in una società che diventa sempre più visiva più basata sulle immagini o comunque su quello che noi vediamo con gli occhi appunto può essere interessante capire quali siano gli strumenti per migliorare le nostre abilità dal punto di vista soprattutto della composizione accompagnando i ragazzi durante le escursioni con l'educazione ambientale con le attività nelle scuole eccetera mi sono accorto che comunque sempre o la macchina fotografica o il cellulare eccetera hanno qualche cosa per registrare quello che vedono anche perché lo vedremo anche con l'altro mio intervento corso di aggiornamento su social network conservazione della natura e così via in realtà sembra quasi che senza condividere qualche cosa questo non esista cioè incontro una farfalla se non faccio la foto e non la posto subito questa non esiste quasi e accompagnare i bambini e i ragazzi in questo percorso di formazione visiva di cultura dell'immagine può essere un'attività interessante quindi nel corso di oggi in questa oretta scarsa in cui parleremo in realtà vedremo delle cose che inizialmente dopo un'infarinatura generale possono essere interessanti indipendentemente dall'attrezzatura quindi non è necessario avere una macchina fotografica iper costosa l'ultimo modello di obiettivo e così via anche perché non è quello che fa la bella fotografia ma può andare bene qualunque attrezzatura che sia in grado di registrare un'immagine quindi anche un cellulare va benissimo perché lavoreremo di più sulla composizione quindi su come posizionare la macchina fotografica l'inquarratura dove mettere il soggetto all'interno dell'inquarratura e così via quindi cercheremo in qualche modo di rendere più godibile l'esperienza visiva e fotografica per chiunque ne sia interessato e queste attività poi potrebbero essere abbinate a delle escursioni o comunque delle uscite anche in ambiente urbano oppure proprio nel parco dell'Oglio per applicare questi concetti e quindi cercare di realizzarli sul sul campo ora vado a condividere lo schermo in modo tale che ecco qua apro la presentazione ecco qua ecco in modo tale da iniziare la nostra lezione della fotografia naturalista è una fotografia che si dedica soprattutto appunto come ci dice il nome alla natura alla fauna alla flora ai paesaggi e quindi noi ci concentreremo proprio su questo aspetto però quello che vi racconterò può valere anche per altri ambiti quindi fotografia street fotografia di ritratto e altre cose che potete praticare anche still life con la frutta e così via e dunque la fotografia spesso richiede una conoscenza tecnica non da poco perché per esempio già se parliamo di esposizione si entra in un mondo di quasi paroloni che al giorno d'oggi per fotografare però quasi non servono perché le macchine lavorano spesso in automatico e quindi in realtà non è così indispensabile conoscere secondo me è molto più importante conoscere il soggetto per esempio del nostro interesse quindi se vado a fotografare gli animali conoscere gli animali per rispettarli e capire esattamente come trovarli senza fare troppe uscite a vuoto però in generale la fotografia si basa su dei fondamenti questa per esempio è un'immagine di piropiro un uccellino sta sbadigliando in questo caso e in particolare vedete che c'è scritto è esposta correttamente cosa significa significa che la quantità di luce catturata dalla macchina fotografica è corretta l'immagine ci appare gradevole questa ha un'indicazione nell'esposimetro che è questa scala graduata che vedete a sinistra con una freccetta lampeggiante che si vede o dentro il mirino oppure sul monitor della macchina fotografica e che se lampeggia più o meno al centro quindi sullo zero in particolare significa che la macchina fotografica ritiene non è pensante ovviamente però secondo dei calcoli matematici che la scena si è esposta correttamente quindi la macchina fotografica è impostata in maniera corretta per riuscire a catturare bene l'immagine quando invece ci muoviamo con la freccia cambiando i parametri si vede che la freccia va verso i valori negativi meno uno meno due eccetera vedete che la foto in realtà verrà sottoesposta cioè più scura del dovuto questa ovviamente è la stessa immagine che io ho modificato al computer per cercare di farvi capire meglio senza cambiare inquadrature mentre andando verso valori più alti quindi verso il più uno e più due versi positivi in realtà la foto verrà sovraesposta quindi il sensore in questo caso ha catturato troppa luce rispetto a quella che servirebbe e questo ovviamente stanno a quello che la macchina fotografica pensa sempre con 800 virgolette perché ci sono delle immagini che invece possono essere corrette sovraesposte sottoesposte questa è un'immagine di caboscia che ho scattato durante una nevicata al parco nazionale del gran paradiso e vedete che questa è decisamente sovraesposta quindi è troppo chiara rispetto a quello che dovrebbe essere una impostazione corretta dei parametri corretti mentre questa di capriolo in realtà sposto un po la mia faccia in modo da non coprire troppo le immagini ecco questa di capriolo è troppo scura è sottoesposta però è già comunque un'immagine di atmosfera l'immagine è tutta un po ombrosa con una macchia di luce nell'angolo e il capriolo che si staglia in silhouette questa invece di ragno lupo che ho scattato in abruzzo è esposta correttamente cioè il ragno illuminato dai flash in maniera ravvicinata ovviamente mostra tutti i suoi colori senza ombre senza parti troppo chiare parti troppo scure i dettagli sono ben leggibili alle volte può avere senso cercare di scattare apposta in maniera troppo scura troppo chiara per esempio in condizioni di luce come questa questo è un cervo con il palco in velluto un maschio che stava camminando dentro un bosco e siccome c'erano dei raggi di luce che entravano dalla filtravano dalle chiome ho scattato questa immagine cercando di scurirla il più possibile realizzandola sottoesposta per far leggere solamente i dettagli dei palchi scontornati dalla luce il resto invece diventa illegibile un'ombra scura quindi non è detto che quello che dice la macchina fotografica sia giusto dipende sempre dalle idee che voi avete però noi oggi ci concentreremo su cose molto meno tecniche molto più di pancia come la composizione la composizione è l'insieme delle decisioni fatte dal fotografo quindi non è necessario avere l'attrezzatura all'ultimo grido l'attrezzatura che fa 13 scatti al secondo o che riesce a catturare la luce più flebile delle stelle in realtà vale con qualunque cosa ed è una scelta che il fotografo fa è una delle ultime cose che rimangono al fotografo rispetto all'attrezzatura che sta usando e quindi decide cosa evidenziare tra il soggetto e lo sfondo le relazioni tra questi due e la posizione reciproca di vari elementi all'interno dell'immagine questo è un fattore importantissimo è un fattore veramente incredibilmente importante perché fa la differenza tra una buona foto e una bella foto una buona foto è una foto tecnicamente corretta a fuoco esposta bene bene inquarrata eccetera però in realtà dal punto di vista della composizione del messaggio e dell'impressione che viene data all'osservatore la bella foto la foto veramente di impatto ha sempre una composizione ricercata vi faccio subito un esempio di come possa cambiare in un attimo questi sono questo è un fungo lo vedete qua in primo piano e poi si vede uno sfondo sfocato si vedono delle delle foglie qua secche del sottobosco e qua dietro i più attenti tra voi avranno notato che ci sono delle macchie c'è una macchia in particolare che il nostro cervello ci suggerisce possa essere in realtà proprio un altro fungo perché ha più o meno la stessa forma sottile e poi a capocchia e lo stesso sicuramente la stessa tonalità di colore quindi il nostro cervello ci suggerisce questo ma non è assolutamente detto potrebbe esserci un soldatino o un chiodo di quella forma e di quel colore quest'altra foto invece che vedete ho messo subito dopo mostra una situazione apparentemente inversa quindi si vede un fungo in questo caso a fuoco delle foglie lo sfocato e davanti qua si vede il fungo un altro fungo verosimilmente della stessa specie e verosimilmente un fungo con sicuramente la stessa tonalità di colore e più o meno la stessa forma infatti queste due foto sono fatte nello stesso posto nello stesso momento con la macchina fotografica appoggiata per terra cambiando solo la messa a fuoco quindi nel primo caso ho messo a fuoco il fungo più vicino e quello dietro rimane sfocato mentre nel secondo caso ho messo a fuoco il fungo più lontano e quello davanti rimane sfocato allora quale delle due corretta beh è semplicemente una scelta quindi non ce n'è una giusta una sbagliata si possono fare delle osservazioni voi voi qua non possiamo interagire ma sicuramente avreste avuto delle idee diverse perché nel primo caso il fungo è ben leggibile ben illuminato e lo sfondo è molto molto sfocato per cui riesce a staccare il fungo rispetto a quello che sta attorno e quindi lo rende più godibile però siccome il funghetto dietro abbastanza lontano appare quasi assottigliato lo vedete per effetto ottico della luce che passa nell'obiettivo e quindi risulta un po meno importante di quanto invece non risulti la macchia sfocata del fungo davanti nella seconda immagine ma è anche vero che questa è una cosa che va al di là della fotografia il fungo dietro è meno bello era molto rovinato quindi era meno interessante e lo sfondo essendo il fungo più lontano risulta meno leggibile in realtà ci sono troppi troppe foglie troppi disturbi e questo ovviamente va a sfavore di questa immagine l'ideale secondo me sarebbe stato avere il fungo dell'altra foto ben leggibile e dietro una macchia sfocata analoga a questa molto grande e molto più importante cioè se giusto per dirvi che in realtà dipende molto dalle vostre scelte non tanto dalle macchine fotografiche come impugnare la macchina fotografica ovviamente parlerò sempre di macchina fotografica intesa come oggetto può essere anche il cellulare beh per esempio inquadrare in orizzontale in verticale dipende da voi non è la macchina fotografica che si gira in un modo o nell'altro in queste due foto di airone cenerino che ho scattato mentre volava sopra il mare con il cielo nuvoloso si erano le ondine delle increspature che sembrano un po' inchiostro in questo caso vedete che l'airone è posizionato a sinistra nell'inquadratura e ha un po' di spazio davanti qui ha meno spazio davanti però nell'inquadratura verticale si apprezza il suo riflesso che fa quella macchia inchiostrata sull'acqua quale delle due migliore probabilmente vedendo solo una solo altra non ci saremmo posto il problema in realtà dipende sempre da quello che uno vuole fare quando è lì sul momento a parlare gli orizzonti sono orizzontali cioè questa è una cosa importante perché tu ti puoi mettere lì sul campo a disquisire col tuo amico e dire la faccio in verticale la faccio in orizzontale però l'orizzonte nella nostra percezione deve essere praticamente sempre orizzontale quindi una cosa del genere soprattutto marina non si può vedere quindi ricordatevi che quando si scattano le foto anche con il cellulare e questo lo potete insegnare direttamente ai vostri alunni in realtà bisogna stare attenti all'orizzonte perché di solito non ci si fa caso però pende spessissimo quindi bisogna far sì che l'orizzonte sia parallelo a uno dei due lati lunghi diciamo dell'inquadratura e perpendicolare invece ai due lati corti quindi ricordatevi che deve essere sempre dritto è una cortezza che aggiunge una precisione in più all'inquadratura e che però in realtà è importante tenete conto anche del fatto che purtroppo si può ovviamente ritagliare un'immagine a posteriori per raddrizzare l'orizzonte quindi con programmi di fotoritocco però è anche vero che quando io vado a raddrizzare perdo dei pezzi quindi è possibile che poi la mia isola andando a raddrizzare venga tagliata via perché o l'orizzonte è dritto o l'isola è intera quindi ricordatevi è meglio scattare gli orizzonti dritti da subito una cosa che sicuramente gli insegnanti di storia dell'arte sapranno è quella della sezione aurea i pittori giusto per farla breve avevano visto che rappresentando i volti con una serie di proporzioni ben precise essi risultavano più gradevoli risultavano più armonici e questo valeva per molte delle rappresentazioni che venivano fatte e la sezione aurea noi la ritroviamo proprio in fotografia in una griglia di nove praticamente riquadri di dimensioni diverse tra loro divisi appunto da queste linee che vedete qua ci sono due verticali due orizzontali che dividono praticamente la nostra inquadratura e qua vi ho messo una diciamo un altro disegno in cui si capisce meglio le linee di forza intersecate tra loro danno i punti focali e c'è una regola che è la regola dei terzi in buona sostanza come si può semplificare si può dire che quando ho un elemento magari orizzontale allungato un soggetto allungato eccetera allinearlo con una delle due linee di forza immaginarie che vedete qua orizzontali può valorizzarlo renderlo più gradevole all'occhio dell'osservatore così come un elemento verticale allineato con le due linee verticali scusate sbagliate a cliccare può ovviamente essere valorizzato ma soprattutto elementi più o meno puntiformi quindi un animale può essere molto più valorizzato se posizionato più o meno all'altezza dei punti focali non è una regola proprio da spaccare il capello in quattro però può funzionare meglio e dipende un po' anche da quello che si vuole fare perché il soggetto lo mettiamo in mezzo di solito sì, si tende a inquarrare, mettere il nostro animaletto il nostro bambino eccetera sempre in mezzo alla fotografia in realtà dipende da quello che vogliamo fotografare perché è dallo scopo perché si può distinguere tra una foto documento quindi una foto di interesse più scientifico e appunto che serve a illustrare l'aspetto, il colore, il comportamento dell'animale oppure una foto più compositiva e più creativa vi faccio subito vedere un esempio guardate queste due immagini di ragni a sinistra vedete un ragno fotografato praticamente dall'alto completamente a fuoco illuminato correttamente a queste due grandi macchie bianche l'addome un po' allungato sta mangiando una preda ed è al centro della sua ragnatela a destra vedete un ragno di un'altra specie anche se di dimensione più o meno analoga in una situazione analoga e vedete che nella foto di destra questo ragno in realtà non si vede molto bene come in quella di sinistra perché è inquadrato a tre quarti le zampe come potete notare coprono una parte del corpo la luce arriva quasi da dietro quindi crea delle ombre e il ragno non è neanche al centro dell'inquadratura perché qui fa da padrona un po' la geometria della ragnatela è vero che le ragnatele sono estremamente geometriche quindi anche in quella di sinistra c'è un po' di geometria però in quella di destra ci sono molte più linee che come su una lavagna i gessetti creano proprio dei disegni che convoiano l'occhio verso il ragno che è anche l'unico elemento colorato all'interno dell'immagine questo ovviamente cambia molto la resa della fotografia questo è un bruco il bruco del rodilegno una falena e qua è fotografato con i flash quasi al centro dell'immagine dall'alto completamente a fuoco illuminato in maniera omogenea nello stesso giorno con lo stesso bruco proprio nello stesso momento ho fatto anche questa però in cui stando più lontano e senza flash l'ombra un po' fredda ovviamente rendeva la corteccia quasi monocromatica a me piaceva la trama dell'edera che ci scorreva sopra e il bruco qua appare come l'unico elemento colorato all'interno dell'immagine vedete come in questo caso sembra che il bruco sia azzurro sopra ma in realtà quello è il riflesso del cielo quindi questa fotografia messa su una guida ai bruchi d'Europa magari sarebbe fuorviante perché farebbe vedere un colore che una persona comune magari prenderebbe per colore effettivo quando in realtà è il riflesso del cielo la foto precedente invece mostrava i colori reali di questo bruco e tra l'altro se dovessi fare una guida ai bruchi d'Europa dovrei tagliare proprio questa immagine l'editore sicuramente la taglierebbe e toglierebbe tutta questa parte laterale che invece a me piace perché è una parte priva di informazioni interessanti sull'identificazione dell'animale quindi vedete che dipende molto dal contesto da quello che si vuole fare dallo scopo che si ha nel fotografare nei comportamenti può avere più senso invece fotografare gli animali al centro dell'immagine o comunque abbastanza ravvicinati perché bisogna far vedere cosa stanno facendo in questo caso c'erano due caprioli che in velluto in inverno stavano giocando tra di loro uno spintonava quell'altro vedete che c'è anche un po' di brina qua sulla groppa di uno dei due perché aveva dormito probabilmente si era ricoperto di brina e poi qua c'è il prato con la prima luce arancione all'alba ecco in questo caso magari se gli animali sono molto piccoli nell'inquadratura si capisce meno il comportamento una cosa importante il respiro del soggetto cioè il fatto che fotografando l'animale con il bordo della fotografia proprio appiccicato al muso si dà un senso di costrizione un senso in realtà proprio di come si può dire di quasi soffocamento quindi quasi di incidente con il bordo perché vedete questo uccellino con un occhio cotto ha tantissimo spazio dietro la coda e invece ne ha pochissimo davanti sembra che si stia schiantando contro il bordo invece in questa seconda inquadratura dello stesso uccellino ovviamente abbiamo più spazio davanti agli occhi che dietro e questo è un vantaggio perché si dà un significato a quello che lui sta guardando potete vedere come questo spazio vuoto nella foto precedente non abbia significato è una cosa che è un di più che non serve mentre in questa fotografia lo spazio vuoto è un punto interrogativo perché in questo caso in realtà si può notare che lui sta guardando qualche cosa chissà cosa starà guardando e questo genera interesse quindi ricordate lasciare sempre più spazio davanti al soggetto che dietro perché altrimenti sembra che si stia schiantando contro il bordo ci sono ovviamente delle eccezioni una volta che uno conosce le regole può fare delle eccezioni questo è il pelodite punteggiato un rospetto che è presente in Liguria e in Liguria in particolare occidentale in questo caso vedete che se stessimo a quello che vi ho raccontato finora lui ha pochissimo spazio davanti al naso ma ne ha tanto dietro quindi questa dovrebbe essere sbagliata ma in realtà dobbiamo anche pensare come guardano gli animali e in particolare gli anfibi hanno gli occhi posti lateralmente quindi guardano verso i lati quindi se dovessimo trasgredire quella regola in questo caso gli anfibi potrebbero essere una buona palestra per esercitarsi poi ci sono tutti quegli animali che non hanno occhi pensiamo addirittura alle piante allora queste sono le gorgogne rosse sono delle colonie di cnidari quindi sono parenti dei coralli delle meduse sono degli animali quindi ma sembrano un po' degli alberi e stanno sott'acqua li fotografati in immersione loro non hanno occhi perché ogni singolo animaletto che sembra quasi un fiorellino non ha assolutamente occhi e nel complesso la colonia a forma di ventaglio non ha occhi quindi qua che cosa usiamo come criterio? beh abbiamo tanto spazio nell'angolo in basso a sinistra che non ha niente di interessante e però le punte sono tagliate nei ventagli quindi quello che possiamo fare è stare un pelo più indietro e fotografare questi ventagli dando loro spazio dando loro slancio un po' come se fossero proprio degli alberi e mostrando quindi le loro linee di forza una cosa a cui ci possiamo collegare rispetto a questo è proprio la sindrome d'amputazione cioè si tende a guardare sempre il centro proprio dell'inquadratura oppure solo gli occhi e non si guardano i bordi ma il nostro mirino è una taglierina il nostro monitor del cellulare è una taglierina sapete quando andate in vacanza e chiedete a un passante di farvi una foto col cellulare magari mette le vostre facce al centro della fotografia e poi vi taglia dalle ginocchia in giù e sopra avete tre metri di cielo ecco questa è la sindrome d'amputazione vale un po' per tutto quindi per esempio questo è il disco glosso sardo un altro rospetto che è presente solo in Sardegna in Corsica vedete che è fotografato da molto vicino non è nemmeno centrato e però c'è tanto spazio sopra dietro in realtà le cosce sono tagliate e dall'altro lato la zampa è tagliata quindi quello che si può fare è o ingrandire molto di più per fotografare solo un dettaglio della pelle o centrarlo quindi se lo devo tagliare faccio in modo che sia simmetrico su tutti i lati oppure molto banalmente sto una spanna più indietro e con questa spanna più indietro in realtà riesco a inquadrarlo nel complesso senza tagliare alcun pezzo ricordatevelo perché è una cosa estremamente importante ecco qua si vede poco perché c'è la scritta di zoom il corno del camoscio era tagliato e questo è un gran peccato perché il camoscio appenninico poi è una specie interessante minacciata di estinzione una volta adesso è uscita dall'orlo dell'estinzione però ovviamente il corno del camoscio è una parte importante non posso decidere di tagliare solo un pezzettino perché normalmente non è una decisione ma è una disattenzione quindi ricordate che è importantissimo ovviamente guardare anche i bordi della vostra inquadratura e questo vale un po' anche per gli elementi del paesaggio questa è una volpe che ho fotografato in Val d'Aosta e qua c'è un albero che ha la punta tagliata e allora questa punta qua ecco ogni tanto esce la scritta di zoom perché è proprio lì purtroppo la scritta questa punta tagliata è un problema perché se fossi rimasto un metro più indietro e avessi puntato l'obiettivo una spana più in su non avrei tagliato quella cima di albero quindi è importante fare caso anche allo sfondo lo sfondo è importantissimo perché nella costruzione del messaggio non c'è solo il soggetto ma si crea una serie di richiami anche con quello che sta dietro guardate per esempio questo airone guardabuoi chiamato così perché mangia cavallette grilli lombrichi smossi dalle zampe del bestiame qui sta guardando le capre allora vedete come mettendo questa fotografia su una bilancia avremo il soggetto cioè l'airone guardabuoi su un piatto e la capra che è l'altro elemento di interesse sull'altro piatto e vedete che tutto pende da un lato cioè tutti gli elementi dell'immagine praticamente sono a sinistra perché comunque sia l'airone che la capra sono sovrapposti e sono a sinistra invece a destra non c'è niente di interessante a parte il sedere di una pecora sfocato quindi in realtà questa fotografia non funziona ma se guardiamo la fotografia che vi mostro ora eccola qua notate come sia possibile creare un'immagine ben bilanciata e narrativa abbiamo a sinistra l'airone guardabuoi a fuoco e a destra la capra sfocata quindi si crea una gerarchia la gerarchia è data dal fuoco il soggetto è sicuramente l'airone guardabuoi ma la capra è un elemento narrativo dello sfondo importantissimo perché l'airone ha una relazione con il bestiame capra incluse e l'airone sta guardando proprio verso le zampe della capra per vedere se qualche invertebrato scappa diciamo e cercare di catturarlo la cosa interessante è che questa fotografia quella corretta è fatta un attimo prima della precedente che in realtà sarebbe successiva e quindi ci fa capire come avere già un'idea dello scatto da fare ci permette di anticipare i movimenti degli animali e comporre in maniera corretta se io avessi detto voglio fotografare l'airone guardabuoi con la capra e avessi aspettato che l'airone arrivasse proprio allineato con la capra avrei fatto solo quella sbagliata invece pensandoci prima sono riuscito a fare tutte e due le immagini e capire qual era quella corretta con un bilanciamento dello sfondo in cui le masse sono ben distribuite all'interno dell'immagine questo vale anche per i colori perché questa è una giovane castagnola un pesce che è blu elettrico da piccolo come in questo caso e poi diventa nero e in questo caso i pesci se sono collaborativi riesci a fotografarli da sopra da sotto da destra da sinistra girandoci attorno perché sei nell'elemento liquido non sei vincolato al suolo al fondo e quindi in questo caso notando che dietro c'erano delle spugne gialle mi sono alzato un pochino per fotografarlo lievemente dall'alto e allineare proprio queste spugne gialle con il blu perché il giallo col blu ovviamente sta bene dal punto di vista del respiro del soggetto questa invece è sbagliata perché vedete che ha pochissimo spazio davanti al muso però mi serviva per farvi vedere i colori i colori sono estremamente importanti guardate in quest'altra questo è il colubro di Riccioli un serpente innocuo che ho fotografato in Toscana all'interno di una miniera a cielo aperto di quelle etrusche e una cava abbandonata praticamente e c'erano tantissime rocce con dei minerali ferrosi questi minerali creavano delle macchie di colori interessanti per cui sdraiandomi per terra e muovendomi con la macchina fotografica sono riuscito ad allineare la testa del serpente con una venatura gialla con attorno le venature arancioni e questa venatura gialla amplifica il messaggio per l'osservatore che è guarda qui cioè guarda l'occhio e questo ovviamente è interessante dal punto di vista proprio del messaggio della comunicazione quindi i colori sono importanti in alcuni casi sono quasi obbligati e questa per esempio è una medusa la cassiopea ce ne sono due in particolare ovviamente il colore di questa medusa giallino sta bene con il blu del mare ma non si può fare diversamente li trovi nel mare e sono così questi animali però la cosa interessante in questo caso è la ripetizione di forme tra il primo piano e lo sfondo perché abbiamo una medusa qua sulla sinistra che è in primo piano è a fuoco è più grande quindi sicuramente il soggetto e dietro abbiamo una medusa della stessa specie ruotata di alcuni gradi quindi la stessa forma lievemente traslata e in questo in questo caso potete vedere come ci sia anche una ripetizione di richiami di queste forme data dai riflessi nella superficie sopra queste meduse quindi le forme sono comunque importanti il richiamo di forme tra primo piano e sfondo è importantissimo e questo è una cosa quasi banale però bisogna fermarsi a riflettere su quello che si sta facendo quando si trova un prato con dei fiori fotografiare un fiore da solo oppure sdraiarsi per terra e fotografarlo con un altro fiore dietro allineato può essere veramente una cosa che fa la differenza in un'immagine indipendentemente ripeto dall'attrezzatura che state utilizzando questa per esempio è un'orchidea è un'orchidea che si trova in Sardegna è un'orchidea spontanea e spesso cresce in gruppetti quindi invece che fotografare stando in piedi dall'alto l'orchidea appena la vedi ci giri un attimo in giro guardi come sono messe e quindi riesci a decidere di fotografarne una con l'altra sfocata dietro ovviamente questo è un po' il caso del fungo avrei potuto mettere a fuoco quella dietro e tenere sfocata quella davanti ho deciso di fare così però perché in realtà questa macchia marrone sfocata sarebbe stata proprio un pugno nell'occhio invece mettendo a fuoco lei ovviamente crei una coerenza tra il fuoco e i colori quindi la cosa a fuoco è anche quella più colorata mentre la cosa sfocata è una serie di fiori della stessa specie si capisce benissimo che è lo stesso tipo di fiore però essendo di lato essendo un po' più defilati sono meno invadenti rispetto a quella frontale che si avrebbe sfocando in senso opposto quindi le forze le linee diciamo le forme sono importantissime così come sono importanti le linee di forza ora vi faccio vedere due immagini di solito quando faccio i corsi dal vivo chiedo sempre quale preferite tra queste due immagini sono due fotografie di vipere in particolare sono le vipere aspis quindi la vipera comune quella di sinistra è una femmina per chi non l'avesse vista è perché è abbastanza mimetizzata è proprio qua nell'angolo mentre quello di destra è un maschio perché ha un'ornamentazione molto molto accentuata sono fatte nello stesso luogo a distanza di alcuni giorni perché è una pietraia dove ci sono le vipere e in particolare addirittura questo è lo stesso albero quindi quello che vedete nella foto di sinistra qua nell'angolo è lo stesso albero che vedete nella foto di destra allora qual è la differenza tra le due immagini beh la foto di sinistra per esempio mostra il mimetismo della vipera e ci sta anche perché comunque le femmine sono un po' più stanziali più mimeti che tendono a stare più defilate mentre i maschi che vanno in giro a cercare le femmine si muovono anche in posti più all'aperto comunque si muovono anche più in vista come si può vedere nell'immagine di destra la foto di sinistra ha due terzi di immagine occupata dalla pietraia che è un po' incombente il serpente appunto si vede poco ma per una fotografia sul mimetismo è perfetto e poi qua nell'angolo entra scocato questo ramo quest'albero diciamo che non aggiunge molto dal punto di vista narrativo l'immagine di destra invece dal punto di vista della composizione è molto più ricercata perché c'è una serie di linee di forza queste linee di forza sono date dal serpente che vabbè ha una posizione un po' sinuosa rispetto all'altro è ok poi dal versante che scende in diagonale quasi e dalla forma di questa roverella di quest'albero che si è stortato tutto è cresciuto storto a causa del continuo muoversi delle pietre sulla pietraia che è un ambiente dinamico e quindi in questo modo è cresciuta completamente tortuosa e molto molto interessante infatti potete guardare vi ho messo delle linee disegnate proprio come ci siano tutte queste linee che vanno a creare tra l'altro una sorta di croce l'asse principale dei rami si oppone all'asse del tronco e in più l'utilizzo di un obiettivo fisheye uno di quelli che fa la distorsione crea un'altra linea di forza sulle chiome che stavano sopra di me quindi in realtà potete vedere come ci sia una differenza tra le due immagini non ce n'è una giusta o una sbagliata ognuno può apprezzare di più una l'altra o nessuna delle due ma in realtà c'è una differenza dal punto di vista della costruzione dell'immagine così come in questo caso questa è una formica una formica che sta camminando su una foglia illuminata dal sole da dietro e dal punto di vista del respiro in realtà non funziona perché c'è poco spazio davanti alla formica e ce n'è tanto invece dietro la trama delle foglie è sempre interessante con tutte queste nervature ma guardiamo quest'altra immagine perché questa dal punto di vista proprio della composizione secondo me è molto più ricercata e molto più interessante questo è un ragno che era di notte su una foglia di fico o di vite non mi ricordo più e avevo messo il flash dietro per illuminarlo praticamente in controluce allora che cosa succede? succede che qui si hanno tante linee che si richiamano tra loro perché c'è una diagonale importante che va dall'angolo in alto a sinistra dall'angolo in basso a destra una linea che è quella che vedete qua in basso che è parallela proprio alla diagonale e dalla diagonale si stacca una serie di altre linee come potete vedere qua parallele tra di loro e il corpo del ragno è parallelo a queste linee adesso vi faccio vedere lo schema proprio di costruzione dell'immagine vedete come sia molto più geometrica ingabbiata in una serie di forme geometriche tra l'altro la diagonale collega i due elementi di interesse dell'immagine che sono il ragno che era veramente piccolo e questa sorta di malattia della foglia che la rende rossa quasi rugginosa quindi ovviamente anche la foto di prima aveva una bella trama perché è indiscusso che la foglia abbia una bella trama in sé ma il modo di fotografare questa foglia ovviamente cambia quindi l'individuazione delle geometrie nella natura è sicuramente un esercizio interessante da far fare ai ragazzi ai bambini perché loro poi sono molto bravi una volta che capiscono il trucchetto sono bravissime a individuare queste trame guardate quest'altra immagine questa per esempio è una una volpe che è fotografata quasi a pieno fotogramma quindi molto grande nell'incuarnatura ha tanto spazio davanti al al muso allo sguardo è ambientata con le montagne dietro ben a fuoco perché è una foto fatta col grand'angolo e è ben illuminata perché aveva utilizzato un piccolo flash per schiarire appunto il primo piano e non avere delle ombre dure sotto l'animale però guardate questa seconda immagine capirete come la composizione sia estremamente diversa perché in questo caso la volpe è un po' meno invadente nell'inquarnatura ma si dà spazio a un ritmo a una ripetizione di elementi sullo sfondo come in particolare questi larici questi alberi che creano proprio una serie di linee parallele tra di loro che vanno a riempire un vuoto di significato cioè la volpe sta guardando verso sinistra cosa guarderà e sembra otticamente che stia guardando proprio verso questa ripetizione un po' come delle colonne di un porticato quindi questa sicuramente ha una composizione migliore rispetto alla precedente ma non ce n'è una giusta o una sbagliata se devo individuare un difetto in questa in particolare direi che non vedere la coda della volpe che è un elemento caratteristico la penalizza un po' rispetto alla precedente che invece aveva il codone bello esteso e ben leggibile per l'osservatore quindi dipende un po' dallo scopo che si ha come sempre quindi l'importanza della ripetizione e l'importanza delle simmetrie un po' ve l'ho già accennato ma adesso lo vediamo per bene questo è un mufflone che ho fotografato in provincia di Varese qualche inverno fa quando ha nevicato aveva tutta la neve proprio sulla testa e sulle sulle corna e in particolare può essere una foto interessante però non ha elementi di interesse particolari dal punto di vista compositivo mentre lo stesso mufflone fotografato un attimo dopo mi sembra con la testa girata esattamente di piatto permette di scattare un'immagine praticamente simmetrica e questo la rende un'immagine estremamente godibile perché l'osservatore si concentra sulla bellezza di una simmetria più che sull'animale in sé simmetria per quanto sia possibile in un contesto naturale perché vedete che la neve ovviamente non è depositata in maniera uguale sulle due corna e così via questo è in dubbio però la simmetria ovviamente è una di quelle cose che ricercata in natura è interessante da inserire nelle fotografie vi faccio vedere alcuni esempi alcune analisi di immagini questo è un capriolo all'alba parco del Ticino quindi tra Lombardia e il Piemonte sta pascolando e vedete come ci sia il sole che sorge nell'angolo di destra i due soggetti sono messi proprio agli estremi opposti dell'immagine sono un po' troppo distanti c'è un vuoto di significato all'interno al centro praticamente dell'inquadratura c'è tanto spazio di prato con labrina sotto suocato non interessante e le chiome degli alberi invece sono tagliate quindi l'ideale sarebbe stato alzare un po' l'inquadratura per togliere il prato sotto poco interessante e inquadrare gli alberi interi e poi magari aspettare che il capriolo si spostasse di più verso il sole per averli più vicini e non così ai bordi dell'inquadratura questa è un'immagine invece di salamandra salamandra pezzata è una fotografia che ho scattato durante una giornata di pioggia e potete vedere come in questo caso ci sia una composizione molto forte con delle linee di forza veramente esasperate perché noi leggiamo le immagini da sinistra a destra in occidente un po' come leggiamo i testi e quindi il nostro occhio entra da sinistra nell'inquadratura salta praticamente su questa radice la usa tipo scivolo scende all'interno dell'inquadratura in diagonale aggancia la coda della salamandra ne segue il corpo sinuoso e arriva alla testa con gli occhi a fuoco e quindi al soggetto che volevo far vedere quindi dal punto di vista delle linee di forza questa è veramente esemplificativa c'è un andamento praticamente a spirale nonostante ci sia un vuoto un po' di significato qua sulle foglie bagnate che costituivano la lettiera del bosco questa di solito ai corsi chiede giusta o è sbagliata secondo voi e normalmente i corsisti che hanno ascoltato dicono dipende eh sì dipende dipende dal boscopo nel senso che non ha una composizione particolarmente interessante ma dal punto di vista invece della fotodocumento può funzionare questa è una vipera delle Alpi fotografata in Piemonte e in particolare da queste immagini si possono dedurre un sacco di informazioni interessanti per esempio è una femmina perché il pattern quindi il disegno dorsale è poco marcato rispetto ai maschi della stessa popolazione e tra l'altro fotografando nel dorso io posso riconoscerla perché il disegno è diverso in ogni individuo e quindi un po' come un'impronta digitale confrontando le foto di più serpenti fotografati nello stesso posto a distanza di anni posso riconoscere lo stesso individuo e mi è capitato diverse volte poi la seconda cosa che posso valutare è che l'occhio è opaco quindi questa femmina probabilmente doveva fare la muta doveva cambiare la pelle perché l'occhio diventa azzurrino opaco poco prima di cambiare la pelle la terza cosa che vedo è che in realtà qua ci sono una e due ferite verso la coda per cui cicatrici qualcuno ha provato a mangiarsela probabilmente un uccello con il becco con gli artigli ha provato a prendere lei è riuscita a scappare quindi in realtà abbiamo dedotto un'altra informazione e ne possiamo tirare fuori un'altra ancora perché proprio qua dove c'è questa punta della coda che esce da sotto si vede che il fianco della vipera si ingrandisce perché questa femmina era gravida aveva tutti i viperotti quasi formati all'interno proprio della pancia quindi un'altra informazione e in più vedo il tipo di vegetazione rupicola quindi che vive sulle rocce il tipo di roccia e così via quindi riesco a dedurre in una foto illuminata correttamente a pieno fotogramma quindi con l'animale grosso e perfettamente a fuoco riesco a dedurre tante informazioni dal punto di vista scientifico questa invece è un'immagine la fotografia corretta la trovate nel mio libro i tesori del fiume del 2016 è un tritone un tritone crestato femmina che sta nuotando sotto la superficie di uno stagno fotografato dal basso io ero con la maschera e le pinne nella palude in febbraio e si può vedere appunto questo tritone che sta nuotando e dietro fuori dall'acqua si notano gli alberi e il cielo però questa è completamente sbagliata perché la coda è tagliata la zampa è tagliata l'altra zampa è tagliata la testa manca quindi l'immagine corretta che appunto potete recuperare lì oppure sul mio sito al tritone intero ma nella sequenza ovviamente qualcuna risulta sbagliata perché i tritoni nuotano e anche abbastanza velocemente qua abbiamo un caso studio tipico è la rana verde la rana verde fotografata in Piemonte sul Sesia questa è una rana che stava in una pozza laterale del fiume e è fotografata a tre quarti allora qua potete vedere come in realtà l'inquadratura verticale sia un po' penalizzante perché perché ho tanto spazio sotto e tanto spazio sopra inutile eppure qui come potete notare il fianco della rana è quasi tagliato quindi in realtà questa l'avrei inquadrata cioè l'ho fatta io però a posteriori dico che l'avrei inquadrata orizzontale quindi sarebbe stato meglio avere una fotografia orizzontale qua potete vedere un'altra inquadratura della stessa rana ovviamente in condizioni di sole e nuvoloso cambiano anche le condizioni di illuminazione però mi interessa ragionare sulla composizione in particolare vedete che è frontale e questa si gioca sulla simmetria però normalmente nei corsi dal vivo le persone mi dicono eh sì però il riflesso è tagliato il riflesso è una cosa importante ed è verissimo perché il riflesso aggiunge un altro piano di simmetria nell'immagine cioè il sopra sotto oltre che il destra sinistra e quindi probabilmente l'immagine migliore di questa sequenza è questa in cui ho sia un'asse di simmetria verticale con una riga in cui a destra e a sinistra la rana è perfettamente identica e anche un'asse di simmetria orizzontale per cui la rana e il suo riflesso sono identici ma il riflesso ovviamente è un po' più sbiadito e quindi si crea una gerarchia quindi il modo di inquadrare lo stesso soggetto è veramente diverso a seconda del vostro gusto personale della situazione e così via e questo può cambiare tantissimo la resa finale agli occhi dello spettatore quindi riflettere un po' prima di scattare girare attorno al soggetto se non scappa subito eccetera ma con i funghi e i fiori potete esercitarvi e far anche divertire gli alunni e i bambini proprio per questo motivo cioè far vedere che esistono tanti punti di vista diversi sulle cose che pur con la stessa macchina fotografica 20 persone faranno 20 fotografie diverse questo è un insegnamento interessante della fotografia e adesso per concludere vi do 10 piccoli consigli per migliorare le vostre fotografie oppure da per proprietà transitiva suggerire a chi accompagnerete il primo è fotografare raso terra abbandonate la prospettiva antropocentrica dello stare in piedi e fotografare dall'alto in questo modo guardandovi il fungo dall'alto ma sdraiandovi raso terra come avevo fatto con questo bellissimo ramarro in va il grande in realtà riuscirete a dare una prospettiva all'altezza degli occhi del soggetto e quindi a far immedesimare meglio l'osservatore nel vostro punto di vista uscire al mattino presto e beh chi dorme non piglia pesci e anche belle atmosfere belle luci tanti animali e così via al mattino presto ci sono delle atmosfere incredibili che spesso poi nelle ore centrali della giornata con il sole a picco e le luci dure non sono assolutamente recuperabili a meno che non ci sia brutto tempo infatti poi vedremo c'è un altro consiglio riferito a questo quindi uscire al mattino presto permette di vedere più animali di fare fotografie con luci molto più belle e di trovare scenari come questo delle vallate con le nubi che ricoprono come qui sull'appennino piacentino cambiare la scala di osservazione cioè non bisogna passare il messaggio che non è necessario fotografare per forza gli orsi i lupi gli elefanti i leoni gli animali grossi e carismatici per divertirsi o per fare delle belle immagini in realtà si possono fare delle belle immagini anche proprio a metro zero io per esempio adesso ho un obiettivo che ingrandisce fino a 5x un rapporto di ingrandimento molto elevato e mi sto divertendo visto che non ho molto tempo per andare in giro in questo momento a fotografare gli animali che trovo in casa quindi un ragnetto una cimice eccetera lo trovi sul muro e senza neanche toccarlo ti metti a fare le foto e veramente escono degli ingrandimenti pazzeschi delle foto interessanti quindi ricordate che non è necessario andare chissà dove per realizzare delle immagini interessanti e a maggior ragione per vedere delle cose interessanti scoprite i limiti delle attrezzature sfruttate nei pregi cioè è inutile fissarsi nel voler fare le foto subacquee se si ha solo il cellulare ovviamente il cellulare non è fatto per andare sott'acqua e quindi purtroppo per lui non può fare le foto subacquee allora non è necessario andare a comprare chissà che cosa uno ha una macchina fotografica si legge le istruzioni cosa che non viene mai fatta però è importante si capisce come funziona bene e si cerca di sfruttarla al meglio poi magari scopri che ti piace fotografare di più le stelle quella macchina fotografica lì dopo un po' vedi che ha dei limiti nel fotografare le stelle allora ne comprerai magari un'altra concentrandoti su quelle che hanno le caratteristiche idonee per rendere al meglio la volta celeste ma per iniziare va bene qualunque cosa basta conoscere l'attrezzatura bisogna avere pazienza perché un conto è dire voglio fotografare il falco pescatore come in questo caso che tra l'altro stava sul cartello di divieto di pesca un altro è voglio fotografare il falco pescatore quando sta per spiccare il volo allora qua io avevo aspettato un'ora perché lui era lì sul posatoio proprio aspettava di vedere magari qualche guizzo di pesce nella laguna e quando poi è partito in volo se tu stai al cellulare e non lo stai guardando ovviamente ti perdi l'attimo oppure se arrivi e dopo un minuto pretendi di fare questa foto ovviamente non riesci quindi serve sicuramente pazienza soprattutto in natura bisogna imparare a prevedere il comportamento del soggetto questo per esempio è un ragno botola in particolare il ragno nuragico che è una specie nuova che io ho scoperto nel 2014 insieme a Bruno Manunza dell'Università di Sassari e Arthur Decae che invece è un grande esperto di ragni aracnologo olandese è una specie sconosciuta alla scienza ed è presente solo in Sardegna per quello che si sa scava una galleria nel suolo e chiude l'imboccatura con un coperchio una botola proprio di terra tenuta insieme con la seta quando passa un piccolo invertebrato accanto lui salta fuori lo cattura e lo trascina dentro durante la notte e riuscire a fotografare il momento in cui il ragno salta fuori per catturare l'invertebrato è molto difficile perché è veramente una frazione di secondi però conoscendo il ragno e conoscendo il suo comportamento sono riusciti a realizzare una serie di immagini di questa di questa scena perché perché ho notato per esempio che il ragno quando l'animaletto è troppo grosso si spaventa e non salta fuori quando l'animaletto è troppo piccolo non vuole sprecare fatica e quindi non salta fuori se l'animaletto ritaglia giusta ma si muove in modo deciso e cammina direttamente sopra la botola lui non salta fuori se invece l'animaletto la preda passa tangenzialmente alla botola in maniera lenta allora il ragno salta fuori ma poco prima la botola ha una serie una specie di sussulto cioè appena appena si solleva di un millimetro e se noti quello sai che lui sta per saltare fuori ti prepari con la raffica e scatti le immagini quindi conoscere il comportamento del soggetto permette di scattare più immagini di comportamento ecco alcuni soggetti non collaborano molto per cui quando ci incontrano per strada oppure nel bosco oppure in montagna o al mare scappano per esempio questo è un dino che non stava scappando stava rincorrendo un altro dino però magari c'era poca luce allora io nello scattare ho mosso la macchina fotografica in questo modo e questo vale anche per il cellulare e quindi è venuto un effetto un po' pittorico che mi ha salvato dall'avere invece una foto completamente mossa e illeggibile e ovviamente vi dicevo è inutile fissarsi di voler fotografare il falco pellegrino che cattura il piccione in picchiata per cominciare si comincia da cose semplici quindi fiori e funghi per esempio non scappano adesso arriva il periodo più bello più adatto arriva l'autunno e quindi in realtà andare nei boschi quando è tutto bagnato tutto colorato eccetera è bellissimo trovate un fungo potete stare anche quattro ore a fotografare lo stesso fungo da sopra da sotto destra sinistra contro luce flash non flash sole ombre eccetera quindi mi raccomando questi sono i soggetti ideali per cominciare e ovviamente andare a fotografare quando il meteo è brutto perché tutti pensano che le belle foto si facciano con il cielo azzurro e il sole in realtà quelle sono le foto più banali e spesso con anche tecnicamente meno corrette in realtà il cambio meteo è la situazione migliore proprio per le fotografie di paesaggio e soprattutto anche il brutto tempo permette di osservare animali che magari non sono osservabili con il sole le salamandre per esempio escono quando piove questa è una una lumaca di quelle rosse che si trovano spesso nei nostri boschi e in questo caso vedete che pioveva e l'ho fotografata ambientata con la cascata del ruscello dietro ovviamente con un contesto di sole non sarebbe stata la stessa cosa e le lumache comunque diventano molto più difficili da trovare e l'altra cosa importante è rispettare gli animali le piante i luoghi e così via lo vedremo anche nell'altra mia lezione di aggiornamento insomma sui social network e la conservazione le bufale e così via ma soprattutto quando si va in giro ovviamente non bisogna disturbare gli animali mettersi vicino ai nidi per fotografare richiamarli mettere da mangiare catturarli non bisogna strappare le piante non bisogna staccare i funghi per fotografarli e così via quindi questo ovviamente fa parte appunto dell'approccio soprattutto perché nell'ambito della fotografia naturalistica ci muoviamo in un contesto naturale e vivo quindi non stiamo fotografando dei bicchieri delle sedie o dei libri stiamo fotografando delle cose vive che siano animali che siano piante o che siano degli ambienti e quindi serve sicuramente rispetto ora io vi ringrazio per l'attenzione spero che vi sia piaciuto il mio intervento qualora abbiate delle domande potete contattarmi tranquillamente questa è la mia pagina facebook che è Marco Colombo naturalista e fotografo su questa pagina posto spesso delle immagini mie oppure delle immagini di altri fotografi delle discussioni sulla natura delle nuove scoperte delle analisi di articoli di giornale errati con tutta la parte di diciamo precisazioni naturalistiche perché ovviamente anche questa è parte del mio lavoro e dell'informazione che faccio quindi potete seguirmi lì oppure mandarmi una mail senza problemi e vi ricordo anche il mio ultimo libro che è Paesaggi bestiali è un libro dedicato al rapporto tra gli animali e il paesaggio in Italia quindi parte dagli animali in espansione come il lupo la martora il picchio nero e così via il gatto selvatico anche per poi parlare invece degli animali minacciati come l'orso marsicano l'aquila del bonelli il falcolanario e arrivando poi gli animali più piccoli quindi ragni scorpioni gamberi di fiume e così via è un libro stampato su carta ruvida per cui sembrano un po' dei disegni le immagini come resa e ha dei testi elaborati sono dei testi scientifici elaborati sulla base della bibliografia della letteratura più recente quindi se vi dovesse interessare questo libro lo potete ordinare direttamente online oppure dall'editore che è Publinova Negri e si chiama appunto Paesaggi Bestiai basta io vi ringrazio per l'attenzione e appunto se avete domande potete contattarmi grazie